Ci troviamo a Marsala nella piazza Marconi, meglio conosciuta dai marsalesi come piazza Porticella. Grazie alle segnalazioni di alcuni nostri telespettatori abbiamo fatto visita ai bagni pubblici che si trovano all'inizio della villa in prossimità del santuario della Madonna della Cava e lo spettacolo è stato veramente raccapricciante. Siamo stati costretti a tapparci sia la bocca che il naso per la gran puzza.